Vince il Gallipoli il derby del bianco contro Rotanto grazie ad un gol per tempo dei giocatori di Mister Oliva che si avvicinano così alla zona playoff. I padroni di casa partono con il Kerz inserito e provano subito a fare la voce grossa in campo e la prima opportunità è di marca ionica con Medina che al tredicesimo obbliga Caroppo ad un'uscita disperata per cercare di fermare il centravanti del Gallipoli. La prima offensiva degli ospiti giunge al ventiduesimo quando Villani ci prova con il destro dal limite e l'aria il suo tentativo si perde ad un palmo dalla traversa. Al trentatresimo la partita si accende prima i giallorossi colpiscono un clamoroso palo poi sulla ribattuta Regner e il più lesto ad arrivare sul pallone ribadire alle spalle di Caroppo che non può far altro che vedere il pallone perdersi in fondo alla rete. Il vantaggio dei giallorossi dura però appena dieci minuti quando il capitano Mariano dell'Otranto arriva come un treno sul secondo palo e di testa spinge il pallone in rete per il pareggio della formazione adriatica. Nella ripresa la partita sembra inchiodata sul 1 a 1 con le due formazioni che si danno battaglia in mezzo al terreno di gioco a rompere questo equilibrio però ci pensa Maiolo al sessantaseiesimo quando al termine di una meravigliosa azione corale tutta palla terra con il sinistro in bello stile dal limite dell'area di rigore indovina l'angolo giusto e batte il portiere avversario firmando il definitivo 2 a 1. L'Otranto ci prova fino alla fine ma a frenare l'impedo della formazione azzurra l'espulsione per doppio giallo dai danni di pallumbo e giallo rossi di portarsi a casa il derby dei due mari